Buon viaggio, bentrovati ancora da Moversi in Toscana e da Mauro Ciutini in studio, code per 5 km dopo un incidente sulla Firenze e Pisa-Livorno tra Monterupo-Fiorentino e lo svincolo di Empoli. In direzione di Livorno e sempre in direzione Livorno anche una perdita di carico tra Pisa Nord e Navacchio-Visignano. Passiamo alla 11, il traffico intenso al momento tra la barriera di Firenze-Ovest e Prato-Est in direzione di Pisa. In A1 segnalato un veicolo in avaria tra Valdarno e Incisa-Reggello, direzione Firenze. Passiamo alle statali, sulla 12 della Betone del Brennero lavori nel tratto compreso tra la variante di Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano. In chiusura ricordo dalle 22 di stasera alle 6 di domani in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e località La Quercia in direzione di Bologna per lavori di manutenzione. È tutto Moversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze a più tardi.